Pasinelli, da ricerche che ha fatto negli archivi dei comuni del nostro territorio, lei sta tentando anche un po' di ricostruire la presenza di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, in Alta Valle Siriana e in particolare anche nelle zone di Clusone e Rovetta. Esattamente, è stata un po' una casualità in realtà, una richiesta che mi è venuta da uno storico, Sergio Luzzatto, e di ricostruire un po' questa vicenda. E poi mi sono appassionato e grazie all'autorizzazione della sovrintendenza archivistica, grazie alla disponibilità dei comuni, dei sindaci e soprattutto degli impiegati comunali di Clusone, di Rovetta, di Sovere, di Gandino, di Trescore e di Selvino, ecco, ho potuto cominciare a trovare del materiale interessante su questa presenza degli ebrei internati nelle nostre valli. È una presenza poco documentata, anche se c'erano già alcuni lavori, in particolare Silvio Cavati, che ha fatto un bellissimo lavoro su questa presenza degli ebrei anche qui da noi. Però, per esempio, Rovetta non è stato mai documentato come paese che avesse avuto degli ebrei internati. E penso che probabilmente ce ne saranno altri. Come mai bisogna partire dagli archivi comunali? Perché l'archivio della profettura è andato distrutto da un incendio. E quindi l'archivio, che avrebbe dovuto conservare molti materiali, purtroppo ne conserva veramente pochi. Quindi, Rovetta, c'erano circa 5? 5-6 ebrei sicuramente internati, ma nell'insieme probabilmente una ventina di ebrei che si erano nascosti, e avevano trovato lì un po' come sfollati, ma ovviamente nascondendosi rispetto a Milano, erano circa 300-320 gli sfollati che c'erano a Rovetta, e quindi erano parecchi. Ma probabilmente facevano parte di questa comunità di pellicciai collegata anche a Gandino, perché erano imparentati con alcuni matrimoni. Ma a Rovetta, anche interessante, Rovetta, attenzione, Rovetta con Fino del Monte, perché in quel periodo il comune era un comune unito. Rovetta con Fino del Monte e San Lorenzo, e quindi lì c'era probabilmente anche la presenza di alcuni orafi, perché mi hanno detto dei testimoni di aver ricevuto in dono un servizio d'argento, proprio da alcuni ebrei che erano stati da loro nascosti in questi paesi. Quindi parliamo di ebrei nascosti nelle soffitte, in qualche modo nelle abitazioni. Sì, nelle abitazioni private, soprattutto private. E poi dopo l'8 settembre anche sulle montagne e nelle baite qui intorno. Da Clusone, Gandino l'abbiamo sicuramente, è il paese che ha più ebrei salvati e nascosti, ma Gandino, Clusone, Rovetta e anche Sovere, è come se ci fosse quasi una rete, una rete magari poco nota, ma che ha funzionato. Soprattutto una rete gestita dagli stessi ebrei che sapevano dove poter trovare queste ospitalità e queste famiglie disponibili ad accoglierli, a nasconderli. Anche se poi raggiunsero località diverse, a Clusone anche grazie alla ferrovia arrivarono una cinquantina di ebrei. Sì, anche Clusone. A Clusone sono transitati sicuramente una cinquantina. Forse anche qualcosa in più, perché parliamo di una cinquantina a volte rispetto ai nuclei familiari, ma poi probabilmente anche qualcosa in più. In questo lo storico locale Mino Scandella potrebbe dire qualcosa di più, ma so che sta facendo anche lui una bellissima ricerca e penso che ce la proporrà.